Manfredi Rizza riporta entusiasmo nella canoa velocità italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo una grande prova in semifinale chiusa col secondo tempo, ora l'Azzurro lotta per la conquista di una medaglia. Uno sprint impressionante e anche contenuto nel finale, con il quinto crono complessivo. I top 5 sono racchiusi in 72 millesimi e quindi c'è margine per sognare una storica medaglia. Manfredi Rizza riporta entusiasmo nella canoa velocità italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo una grande prova in semifinale chiusa col secondo tempo, ora l'Azzurro lotta per la conquista di una medaglia. Uno sprint impressionante e anche contenuto nel finale, con il quinto crono complessivo. I top 5 sono racchiusi in 72 millesimi e quindi c'è margine per sognare una storica medaglia.